l'unic star le uniche pagliette antibatteriche in commercio prodotte anche per i marchi più importanti sia nazionali che internazionali benvenuti al meteo alta pressione prevalente anche la giornata di martedì 19 dicembre sarà contraddistinta dal bel tempo vediamo il dettaglio sul veneto tempo stabile ben soleggiato un po ovunque specie sui rilievi mentre in pianura e nelle valli potrà esserci l'insidia di foschie e nebbie specie nelle ore più fredde questo sarà sinonimo di pessima qualità dell'aria anche a causa dello smog vediamo le temperature che saranno stazionarie minime tra 0 e 2 gradi massime tra 6 e 10 gradi all'incirca spostiamoci ora sul friuli venezia giulia e il cielo sarà sereno su bassa pianura e costa possibile qualche banco di nebbia temperature minime tra 0 e 6 gradi massime sugli 11 13 gradi infine diamo uno sguardo alla situazione del trentino alto adige dove avremo poche novità splenderà il sole il cielo sarà sereno o al massimo velato temperature minime tra meno 2 e 1 grado massime sui 9 10 gradi dal meteo di antena 3 per ora è tutto grazie per l'attenzione arrivederci l'unic star le uniche pagliette antibatteriche in commercio prodotte anche per i marchi più importanti sia nazionali che internazionali grazie per l'attenzione grazie a tutti